Qui non c'è niente Come al solito Nate? Addio grandi cose Ha sprecato la vita Per niente Nate Sei pronto? Per andare Già Mai come ora Deve esserci una via d'uscita Sembra ci sia un qualche tipo di macchinario qui Ehi, una scala Beh, forse posso raggiungerlo se mi dai una spintarella Ok Sali Sei più pesante di quanto sembri Riesci a raggiungerla? Sembra qualcosa come un vecchio montacarichi C'è una corda Prova a farlo scendere da te Oh, vedo una galleria Possiamo uscire di qui Ciao ragazzi Tranquillo, è di tranquillo Cosa diavolo sta succedendo là fuori? Non li hai visti? Oh no Oddio, no Siamo intrappolati Cristo, e quello cos'è? Siamo morti Siamo tutti morti No No Eddie, torna qui Cavolo Drake Se non riuscissimo a farcela Voglio solo che tu sappia Che non ti sopporto Lo stesso vale per me, amico Ora andiamo Che cavolo sta succedendo là giù? La corda, qua giù Presto Aiuto Merda Dannazione È tutto arrugginito Lo scuole È tutto arrugginito Sì, l'an! Sì, l'an! Forza! L'an! Siamo morti! Oddio! Esatto! Schifoso con Yoke! Non si scherza con Eddie Raja! Eddie! Eddie, resisti! No, non può essere vero! Elena, sbrigati! Vieni! Vieni duro, Nate! Vieni duro! Fatto! Si muove! Asperla la torta! Asperla la torta! Ah! Asperla! Bene! Oh! È forte, Nate! Ti faccio oscillare! Vieniti! Oddio! Via! Da questa parte! Via! Via! Corri! Che diavolo era quello? Non so! Non lo so! Stai bene? Sì! Nate? Ok! Non credo che possano superare questo! Nate? Cosa? Dove siamo? Non ne sono sicuro! Via! Wow! Wow! Si spiega lo U-Bod nel rio delle Amazzoni! Nate, vieni! Guarda qui! Allora lo hanno trovato! Sono entrati nel nascondiglio e lo hanno ripulito! Sì, ma cosa c'entra il monastero in tutto questo? Non lo so! Non ha alcun senso! Se ora la statua si trova qui... Oh, cavolo! Ci eravamo proprio sopra! Scommetto che questo ci porterà in superficie! Sembra che i nazisti non abbiano pagato l'elettricità! Maledizione! Senti, se riusciamo a raggiungere il generatore, possiamo riattivare la corrente! Prima dobbiamo trovare un modo per uscire di qui! Aspetta, che stai facendo? Che stai facendo? Trovo una via di uscita! Bel lavoro! Già! Bene, andiamo! No! Questa è tua, cowboy! Cosa vuoi dire? Nate, io non posso fare quel salto! Non pensare che ti lasci qui da sola con quelle cose! Non abbiamo scelta! Vai, riattiva la corrente, torna a prendermi e poi... Andremo via da qui, ok? Vai! Tornerò subito, ok? Sì! Sì!